Al mio 3 farò una imitazione di Cishogamer89, questo è un video di ammirazione, di stima e di riconoscenza nei confronti di questo famosissimo youtuber italiano che propone gameplay. È un video di stima, ripeto, non è un video di offesa o di diffamazione, ma bando alle ciance, 1, 2, 3, via. Ok, un amatata ragazzi, bentrovati dal vostro Cicogamer89, dove eravamo rimasti? Ok, da episodio 5 Fortnite. Aspettate, forse non rende bene questo video. Ecco qui un attimo solo, eccolo qua, perfetto. Allora, come potete vedere ci sono situazioni negative, anche se possono essere considerate positive. Come state vedendo, mi trovo adesso nella stanza e non riesco però a entrare all'interno della stessa. Come mai questa situazione si verifica? Non lo so, non me lo chiedete a me perché è comunque impossibile da determinare. Potrebbe essere un'idea bella, forse lagga un po', anche se riscontro qualche piccola difficoltà, ma antintanto Fortnite sta proteggendo bene. Attenzione, attenzione, sta arrivando il nemico, lo sto fronteggiando a malamente. Sicuramente non ce la farà prendermi, però ce la provo stessa a farcela ragazzi. Bene, ce la faccio? No, non ce la faccio. Attenzione, 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 ce la faccio, perfetto. Sono entrato dentro, ora mi trovo all'interno del tubo. No, l'ho preso ragazzi, l'ho preso ragazzi, l'ho preso, l'ho preso bene, perfetto, ce l'ho fatta. Adesso entro dentro, ritrovo la palla, mi dà di una palla, perfetto, ok, ok, oddio no, mi effetto, mi stanno facendo, mi stanno lucidando, oddio mio, l'apparecola sta accadendo, oddio no, ce la faccio, sì, ce la faccio, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta ragazzi. Perfetto, ok, 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 perfetto ragazzi, dobbiamo andare avanti nel prossimo livello, avremo due o tre nemici, li affronterò, ah mi aiuto, no, non ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio, no, no, sì, sì, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, pensavo di no, invece ce l'ho fatta, bene, 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 tutto a posto, bene, non è stato difficile, però poteva andarmi peggio, oddio, oddio, oddio ragazzi, oddio ragazzi. Eccolo qua, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta Entrato dentro, perfetto, bene, bene Non è stato semplice ragazzi, ce l'ho fatta Piano piano ce l'ho fatta, sembrava tanto difficile che ce l'ho fatta Meno male, ce l'ho fatta ragazzi, sono contento Per me, ma anche per voi Oddio, oddio, rientro, rientro, rientro No, ce l'ho fatta, è entrato il nemico, no Mi vuole ammassare, mi vuole ammassare, mi ha riuscito Oddio no, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta Ce l'ho fatta ragazzi, di nuovo un'altra volta bene è andata No mannaggia, ce l'abbiamo E vai, e vai, fino a questo livello Ho finito il gioco ragazzi, ho finito il gioco, sono contento Grazie a tutti, e ce l'ho fatta Sono contento perché è stata un'esperienza Diabolica, divina Ragazzi, ci vediamo al prossimo video Il vostro G5M89 Spero vi sia piaciuto ragazzi, ho fatto un'inviazione Abbastanza divertente, spero Piacevole, è un video omaggio Chiaramente, non è un video di infamazione, ripeto Ed è comunque un video di stima E di rispetto nei suoi riguardi Ovviamente, ognuno è libero di Commentare il video come vuole Perché ognuno è libero di fare ciò che vuole Però penso che il video vi sia piaciuto E che vi abbia divertito e non poco Grazie a tutti, dal vostro conoscito italiano di YouTube Italia È tutto, un saluto e al prossimo video